Ed eccoci qui amici di Canta Napoli, siamo in compagnia di Tony Iazzetta. Ciao Tony! Ciao Isabella, buonasera, buonasera, è sempre un piacere essere qui con te e con il nostro patron di Prima TV Napoli, Pasquale Liberti, a Canta Napoli. Benissimo, allora Tony, oggi che cosa proponi al nostro meraviglioso pubblico? Sempre un classico napoletano, palcoscenico. Palcoscenico, Tony Iazzetta. Canta Napoli. Canta Napoli. Canta, che musica, balla, pazzarilla, che stomma, che avanza, vota e scazza e che vuole se fa. Canta, che musica, balla, pazzarilla, che stomma, che vuole se fa. Canta, che musica, balla, pazzarilla, che vuole se fa. Pazzarilla, che vuole se fa. Canta, che vuole se fa. Canta, che vuole se fa. Pazzarilla, che vuole se fa. Grazie a tutti.